Comincia il nuovo anno, restano i problemi dell'emergenza sanitaria e di quella economica e sociale che ne consegue anche in Toscana dove la Regione è chiamata ad adottare ulteriori provvedimenti. Quale deve essere allora in tutto questo il ruolo del Consiglio regionale ne parla il Presidente Antonio Mazzeo nella conferenza di fine anno e nella lunga intervista che Telegranducato ha trasmesso il 1 gennaio. Ascolteremo anche tutti i capigruppo del Consiglio regionale di maggioranza e delle opposizioni. Quali sono le priorità per loro in questo avvio del 2021? Prima del saluto al 2020 il Presidente Mazzeo e il garante dei detenuti Fanfani hanno visitato il carcere di Pisa e hanno verificato la situazione sanitaria chiedendo vaccinazioni rapide anche per gli agenti e per i volontari che operano all'interno. Facciamo prima il punto sull'attività del Consiglio. Le ultime sedute ci sono state il 22 e il 23 dicembre. Sono state dedicate soprattutto alla discussione e all'approvazione della manovra di bilancio. Durante i lavori non stop e che si sono protratti anche di notte l'Assemblea ha dato l'ok anche alla risoluzione sui vaccini uscita dalla Commissione Sanità e ad un'altra della Commissione Europa sul ruolo più incisivo che devono svolgere le regioni raccordando giunta e consiglio per l'attribuzione e la destinazione dei fondi europei. Sono argomenti che torneranno nelle prime sedute dell'anno nuovo naturalmente mentre il Presidente e i consiglieri, almeno molti di loro, hanno partecipato simbolicamente al V-Day il giorno del primo vaccino per tutti. Era domenica 27 dicembre. Qui siamo all'ospedale di Cisanello a Pisa, c'erano il Presidente Mazzeo e alcuni consiglieri eletti sul territorio e qui invece a Livorno dove insieme ai consiglieri livornesi è arrivato anche il Presidente della Giunta Gianni. Nei prossimi giorni torna a riunirsi, tutta l'Assemblea lo hanno già fatto, lo stanno facendo le commissioni che, lo ricordo, preparano gli atti che poi vengono discussi e votati in aula. Il Presidente Mazzeo incontra i giornalisti il 29 dicembre a Firenze nel tradizionale appuntamento di fine anno. Serve per un bilancio dell'attività svolta e per qualche indicazione per il futuro. Noi approfondiamo i contenuti di quella conferenza in una lunga intervista esclusiva, trasmessa la sera di Capodanno. Partiamo dai numeri. 14 sedute del Consiglio, 32 sedute delle commissioni, presenze grazie anche alla possibilità di partecipare online che superano il 99%, perché avete anche questo un record. Lei cosa ricorda di quel lunedì di metà ottobre, il 19 ottobre, quando è stato eletto? Devo essere onesto, io non mi aspettavo di fare il Presidente del Consiglio regionale se non negli ultimi giorni in cui in diversi colleghi mi hanno cercato. Il senso di grande responsabilità. Mi tremavano i polsi, mi tremavano le gambe. Nel momento in cui salutando i colleghi consiglieri e ringraziandoli sono salito sullo scranno più alto dell'Assemblea legislativa. Poi nell'ultima votazione l'hanno votata anche quelli di centro-destra. Ma questo è un senso di maggiore responsabilità, perché io sono lì davvero a rappresentare tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Ora, dopo aver risolto le questioni di tipo sanitario, noi dobbiamo occuparci anche di come far ripartire tutta l'economia della nostra regione. Insomma, il lavoro che c'è da fare è tanto e ci attenderà nelle prossime settimane, sarà ancora maggiore. Però io penso che tutti insieme ce la possiamo fare. La Toscana è una grande comunità. Guardiamo oltre con lo sguardo. La politica non può pensare solo all'oggi e neanche al domani. Ho lanciato quindi questa idea di pensare insieme alla Toscana del 2050, mettendo insieme filosofi, fisici, architetti, operai, chiedendo a ciascuno di loro di fare la fotografia del futuro, di come sarà la nostra regione tra 30 anni. Ma io non immaginavo mai che con un'app 20 anni fa si poteva chiedere di far portare il cibo a casa. Però non basta, perché oggi quelle persone, i rider, non hanno diritti e noi dobbiamo costruire le condizioni per crearle questi diritti. E nel futuro i robot, come ci condurranno a vivere? Come noi riusciremo a vivere insieme ai robot? C'è un tema però in particolare che sta a cuore a tutti noi, a tutti i cittadini, quello del rapporto con il palazzo. Il mio palazzo sarà apertissimo, ho lanciato un piano digitale proprio perché voglio dare una mano ai colleghi consiglieri per lavorare meglio e legiferare meglio, ma anche ai cittadini per poter accedere di più nel palazzo. Fin qui il presidente del Consiglio regionale, ma sulle priorità per il 2021 abbiamo voluto coinvolgere anche tutti i capigruppo. Cominciamo dalle opposizioni e subito dal gruppo più numeroso. Le priorità ovviamente rimangono quelle dell'economia, soprattutto legate a questo brutto periodo che noi tutti abbiamo vissuto. Abbiamo ovviamente una grande pletora purtroppo di persone che non hanno ricevuto niente dai decreti ristorici, che sono rimaste escluse, che hanno bisogno di sostegno. Abbiamo da progettare una Toscana che purtroppo sappiamo sarà diversa dopo la pandemia, come sarà diversa probabilmente tutta l'economia nazionale se non mondiale. Dobbiamo lavorare velocemente perché ogni giorno di lavoro perso per molti dei nostri cittadini può significare non riaprire il proprio negozio, può significare la morte del nostro comparto artigianale che è fondamentale e soprattutto voglio ricordare che la Toscana ha prodotti di qualità, dall'eno gastronomico al commerciale al tessile. Abbiamo tre distretti fondamentali che vanno salvaguardati e supportati adeguatamente e abbiamo da pensare a questo. Fosse anche che si deve fare le notti per cercare di trovare soluzioni, ora è indispensabile farle perché ne va della sopravvivenza proprio di tutto il tessuto sociale. L'altra opposizione è quella del Movimento 5 Stelle. Innanzitutto digitalizzazione. La banda larga è una priorità ma a questo punto dobbiamo fare un passo indietro e pensare semplicemente già a dare una connessione internet ad alcune aree. Siamo molto indietro rispetto al resto dell'Europa e persino a molte parti dell'Italia. Innovazione che significa anche una digitalizzazione della pubblica amministrazione e in questo senso bisogna procedere speditamente così come sta andando l'agenda della ministra Dadone che sta facendo un grande lavoro in questa direzione e bisogna guardare all'ambiente perché se è vero che la sanità è importante, gestire al meglio un ambiente, andare verso un superamento delle discariche, degli inceneritori e rendere il Green Deal, quindi il patto per il verde, per l'ambiente davvero reale, bisogna andare verso un cambio di prospettive. Aspettiamo il piano rifiuti ad esempio e il piano amianto e aspettiamo che la scuola in Toscana ritorni al centro dell'agenda e non venga semplicemente vista come un qualcosa che si deve gestire in qualche modo tra le mille emergenze. Ascoltiamo invece le proposte e gli impegni della maggioranza dei due gruppi che la compongono PD e Italia Viva. Chiaramente la priorità ancora deve essere quella di lavorare e investire per la tutela della salute, per l'uscita dall'emergenza sanitaria, quindi riqualificare la nostra rete ospedaliera, rafforzare i servizi territoriali, l'integrazione sociale e sanitaria e poi gli investimenti in infrastrutture e il sostegno alle nostre imprese, sia attraverso i ristori, anche con attenzione a quei settori e a quelle aziende che fino ad oggi hanno avuto meno attenzione da parte del Governo centrale, ma poi anche e soprattutto creando le basi e le condizioni per una ripartenza, perché noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare ad una Toscana che riprende possibilmente a correre il prima possibile. Italia Viva intanto termina il 2020 con dei risultati importanti che ci hanno consentito di portare a casa la discussione sul recovery plan, di portare e di sospendere la discussione rispetto alla modifica dello statuto che non ci trovava a Concordi e vorrà portare avanti discussioni nel merito, penso con quello che abbiamo fatto sull'istituzionalizzazione della Guardia Medica, penso con le risorse da fare sulla sanità, il piano vaccini accompagnando il percorso sanitario e fare investimenti strutturali, accompagnare il percorso del turismo. Potrebbe essere l'anno della rinascita della nostra Regione e quindi serve una grande strategia che riguarda il turismo, la realizzazione degli interventi infrastrutturali che abbiamo chiesto, sostegno alle imprese e alle categorie sociali maggiormente in difficoltà e a tutti coloro che hanno perso anche e potrebbero rischiare di perdere il lavoro nei prossimi mesi. Quindi sarà un anno complesso nel quale Italia Viva si farà sentire e giocherà una partita a favore dello sviluppo ma anche dell'assistenza e del sostegno economico e sociale alle categorie più deboli e soprattutto però sarà l'anno nell'ambito del quale ci misureremo rispetto a alcune scelte strategiche, penso al piano dei rifiuti e piano infrastrutturale da realizzare nei prossimi cinque anni. Restano in Consiglio regionale altri due gruppi che fanno parte dello schieramento di centro-destra, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Essere al fianco di chi ha pagato in maniera folle la stagione dalla quale speriamo stiamo piano piano uscendo. Noi dobbiamo non dimenticarci di quello che è successo fuori da questi palazzi, non dimenticarci che fuori da questi palazzi ci sono categorie intere che rischiano di sparire, ci sono intere categorie economiche che rischiano di essere cancellate per sempre dal tessuto sociale della nostra regione, della nostra nazione e a questi noi dobbiamo una risposta, dobbiamo risposte concrete, lo dicevo prima quando parlavamo del piano nazionale del Recovery Fund, è inutile leggere tanti bei progetti sulla carta, aspettiamo di vedere in che maniera questi progetti possono essere un rilancio per queste categorie. Oltre a questo il tema resta quello dell'equità sociale, noi dobbiamo garantire una Toscana in cui tutti i cittadini partono con gli stessi doveri e gli stessi diritti. Ad oggi c'è un gap incredibile tra chi ha tanti diritti a fronte di pochissimi doveri richiesti e chi invece è richiesto un'enormità di doveri e non ha mai un diritto ogni volta che lo chiede. Quindi l'equità è il punto di partenza per il nuovo anno. Guardi, un grande investimento di sostegno alle nostre imprese perché questo è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo capire che in questo momento noi dobbiamo tenere il tessuto economico che abbiamo fatto da artigiani, tassisti, ambulanti, fieristi, bar, ristoranti, cioè da tutte quelle piccole imprese che in questo momento fanno grande fatica e che tutte le risorse devono essere messe lì a fondo perduto. Perché quel tessuto commerciale e artigiano è il tessuto che ci potrà servire per ripartire. Se non capiamo questo vivremo una crisi senza precedenti perché andremo ad avere a marzo, purtroppo arriverà anche lo sblocco dei licenziamenti e quindi ci sarà la possibilità di licenziare, non ci sarà più la cassa integrazione che sosterrà i laboratori e quindi i licenziati molto probabilmente non potranno andare da nessuna parte perché lo Stato non ha più soldi. L'unica possibilità è sostenere le attività imprenditoriali e questo lo possiamo fare soltanto attraverso alcune misure, la prima è il fondo perduto, dobbiamo sostenere quello che noi oggi abbiamo. Uno dei temi più importanti e ricorrenti nelle parole dei consigliari è certo quello del lavoro e proprio durante l'ultima seduta, come abbiamo documentato in diretta, arrivò la notizia che per 60 lavoratori della ex Beckert, fabbrica simbolo della crisi in questi ultimi mesi, c'era l'assunzione alla laica. L'impegno, disse il presidente della Giunta Gianni in quell'occasione, adesso si spostava tutto sugli altri lavoratori. E ora noi gli altri dipendenti, che sono meno perché da 180 diventano 120, io spero possano essere assimilati il prima possibile in quello che può essere la riconversione del ciclo produttivo in Toscana della siderurgia e dell'acciaio collegato a Piombino. Sappiamo che è stato verificato da un punto di vista tecnico, nello stabilimento di Figline ci sono apparecchiature che possono servire verso quello che è un processo produttivo che porta alla laminazione, alla realizzazione di rotaie, alla costruzione del forno elettrico. In questo ciclo produttivo dell'acciaio, che ha il suo core business e la sua funzione nella riconversione del polo siderurgico di Piombino, ci può essere complementare uno spazio della Laia. Dei vaccini abbiamo detto, i consiglieri sono stati i protagonisti della campagna di vaccinazione, testimoni che quella è la strada giusta per frenare la pandemia e tornare alla normalità. Ci vorrà tempo, ci vorranno scelte lungimiranti e non solo per la sanità, ma sarà, dovrà essere certamente così. Vale questo anche in carcere, dove il presidente del Consiglio regionale ha accompagnato il garante dei detenuti, siamo a Pisa, a Don Bosco. Ho sempre detto che il compito del Consiglio regionale deve essere quello di dare più voce a chi voce non ce l'ha. Siamo venuti a vedere le condizioni in cui operano gli operatori della Polizia Penitenziaria, i volontari, delle condizioni in cui vivono i carcerati e sono venuto anche a mandare un messaggio, il messaggio che noi dobbiamo prenderci un impegno, quello di portare alta l'attenzione su questo tema, perché la civiltà di un paese, la civiltà di una regione si misura anche dal livello delle nostre carceri. Ho lanciato anche l'idea, la proposta di fare in modo che tutti gli operatori della Polizia Penitenziaria, i volontari che vengono nel carcere possano essere vaccinati subito nella seconda fase, perché altrimenti il rischio dei contagi aumenta, ma aumenta in maniera sensibile, poi anche per le persone che lo vivono, che sono all'interno e che stanno scontando la pena. Ci sono state anche altre iniziative nei giorni a cavallo tra il 2020 e il 2021, una in particolare ha visto protagonista il difensore civico, che ha sottolineato, parlando dell'attività svolta nell'anno appena passato, un punto in particolare legato all'emergenza sanitaria. Tempestività dei tamponi, problema della tracciabilità, problema di corretta comunicazione, funzionamento delle terapie intensive, ripresa dei servizi sanitari ordinari, sono stati bloccati tutto il tema oncologico, tutti i percorsi assistenziali psichiatrici e di riabilitazione. Noi abbiamo sollevato tanti problemi, stimolato le aziende sanitarie ospedaliere a risolvere questo ultimo in fondo, per esempio, anche tutto il tema della fornitura dei vaccini antinfluenzali che non è stata puntuale e tempestiva, a differenza di certe dichiarazioni. Regionando torna venerdì prossimo, 15 gennaio, e accompagna anche nel 2021, come accade ormai da 18 anni, tutto il lavoro del Consiglio regionale, sul quale però puntualmente informiamo ogni giorno, anche nei nostri telegiornali. Grazie a tutti!